Anche il calcio è occasione per lo scontro politico. Nessuna partitella tra membri di partito, ma un aspro dibattito a distanza tra l'assessore Mauro Febbo e la consigliera Sara Marcozzi. Il motivo del contendere è il ritiro estivo del Napoli Calcio a Castel di Sangro. La società sportiva quest'anno riceverà dalla regione circa un milione di euro. Questo è il prezzo per far venire i campioni di Serie A in Abruzzo. La somma, prelevata dal microcredito di Abruzzo Sviluppo, è un investimento che secondo le stime della regione porterà soldi per il turismo dei tifosi e il ritorno di immagine. Dal microcredito delle imprese non si tratta di un milione di euro, ma si tratta di un milione e duecentomila euro per sei anni, quindi sette milioni e duecentomila euro. Qui non si contesta né il Napoli Calcio, che è una squadra autorevolissima e per la quale simpatizziamo anche, né il fatto di voler promuovere un territorio. Il punto è che con sette milioni e duecentomila euro probabilmente si sarebbe potuto promuovere l'intero Abruzzo con altre iniziative. Io penso ad esempio alla famosa Film Commission, con la quale ci riempiamo tutti quanti la bocca e diciamo sempre in Puglia è avvenuta una cosa straordinaria con il finanziamento della Film Commission. Questa poteva essere l'occasione con sette milioni di euro di finanziarla e di esportare l'Abruzzo in giro per il mondo e non per la Campania. Parliamo di fondi, programmazione 2000-2006, programmazione 2007-2013, fondi liberi come si chiamano tecnicamente perché sono a disposizione del bilancio della regione Abruzzo. Quindi forse qualcuno queste cose non le capisce e quindi parla a vanvera. Per quanto riguarda manifestazione unica non credo. 15 giorni abbiamo le maggiori testate e i media nazionali e internazionali fissi su un territorio interno come quello dell'Alto Sangro, con migliaia di tifosi del Napoli che verranno dalla Campania e da fuori Campania perché sappiamo che i tifosi del Napoli oramai oggi giace quasi il tutto esaurito. Quindi francamente credo che dovrebbero fare meglio la loro opposizione perché non si fa su queste cose che portano solamente ricchezza e portano soprattutto un'immagine bella e importante della regione Abruzzo. Credo che qualcuno forse debba prima capire come si amministra e che cosa si amministra, se non si ha la capacità di leggere i documenti e di non capirli. Le carte le stiamo leggendo, non penso che convenga all'assessore Febbo di incitarci a fare questo perché sa bene che già lo facciamo e ogni volta che lo facciamo scopriamo qualche magagna.